sembra una roba da villaggio vacanze a buongiorno e si ha visto tipo il corneton non si dice la marca perfetto su in bizzo ovviamente su in bizzo ovviamente buongiorno a filippo berli berlin ciao a tutti berlincioni ciao a tutti berlincioni from florence ma scusi ma lei mica amico di un certo zazzeri del pittore ma com'è che mi sta ecco cerchiamo di nascondere le parti in meno no è in ombra mi sta cadendo ecco me lo rega lei perché sa qui non abbiamo ancora messo i pesetti per il vento ecco bravo così si vede anche il braccio ma scusi berlincioni si a glasgow che ci va a fare lei a dare il massimo per un 200 delfino da paura si spera è questo è questo è lei come me lo sviluppa perché il 200 delfino un po me terrorizza è una gara fa paura perché o parti troppo forte e poi lo paghi oppure passi troppo piano e poi lo paghi uguale col braccio sempre teso così ecco ecco sempre lì sempre lì come si sta allenando cioè si stanno allenando gli altri lei mi pare un po in vacanza io ho appena finito ho appena finito qui si sta molto bene ora siamo nella fase finale lei mi dica dove sta scusi lei lo rega che io non posso io non posso perché poi mi dicono che questi video ballano un po tutti quanti ha preso l'asta ha preso l'asta dietro ecco perfetto dicevo qui siamo al circolo canottieri a Niene Certo dove ballino tutti i giorni non vorrei dire tutto l'anno tutto l'anno con grande dovizia di farfalle c'è un altro farfallista qui lo conosce lei un certo Piero Codìa un certo Piero Codìa un certo Piero Codìa sarà mio compagno anzi io sarò suo compagno a campionato europeo di Glasgow e c'è tanta attesa anche per il buon Piero speriamo bene dai mi racconti un po di lei di questo di questo circolo dove lei si trova sono qui da quattro anni è un onorario quindi lei è stata la scelta più bella e più importante che ho fatto nella mia vita fino adesso e si è dimostrata fino adesso anche quella più giusta più azzardata però ha portato diciamo i suoi frutti i suoi risultati quindi continuerò su questa strada sicuramente anche perché lei mi va un po corrente alternata perché era il 2016 mi ricordo lei fece una cosa pazzesca nel 2016 ho vinto la prima medaglia di assoluti che era anche il mio primo titolo si ricorda il mio editoriale quella di lei si strappone il costume tra parte sotto sopra perché era molto inaspettata perché avevo migliorato quasi due secondi dal mio personale quindi due secondi ma cosa pensa uno quando migliora due secondi cioè cosa gli esplode in testa ma che è successo? è una gioia incredibile sicuramente era scattato qualcosa anche quella molla che si dice di testa quella mentalità che magari prima non avevo e lì è stato è bravo cioè allora perché mi sorge la domanda successiva quanto conta la testa oltre che il fisso? tantissimo tantissimo la differenza la fa la testa sempre 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 con o senza il mental coach lei fa da sé? io ho un mental coach che mi segue ma diciamo che è più un amico ci posso parlare di tutto dai problemi amorosi dai problemi familiari e basta sempre queste donne insomma e anche perché qui di donne sono le donne rovinano il nuotatore diciamolo le donne rovinano il nuotatore stiamo scherzando ovviamente stiamo scherzando ovviamente non è la preparazione perché lei è fidanzato no io no ah no quindi lei non deve portarsela dietro no è un libro professionista è un libro professionista della bracciata e allora mi dica un po' e Glasgow come se la immagina? Glasgow è ancora non me la sono immaginata cioè immagino una piscina incredibile perché l'ho visto qualche foto però finché non sarò lì e entrerò sul piano vasca non realizzerò secondo me a 100% lei mi sa bello carico 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 eh ma carico che più carico non si può eh mi spacchi tutto quanto però me la gestisca anche bene perché 200 no ovvio ovvio qual è il suo punto di forza nei due? ma io sinceramente riesco a fare in questo ultimo periodo in questo ultimo anno sono riuscito a passare non a un passaggio magari velocissimo ma a un terzo 50 a un quarto 50 a un buon ritorno ecco il mio sono il terzo e il quarto 50 in cui riesco a dare a dare a dare guardi Filippo dopo aver tenuto il sacro il sacro telo il sacro telo sì lei passerà vedrà che è una roba che non si immaginerà nemmeno cioè farà mi promette che se passa con quel sacro sì e fa quello che deve fare sì mi fa un urlo clamoroso lì a Glasgow promesso promesso mi raccomando e mi raccomando con le scozzesi eh qui non posso assicurare niente appunto qui non posso assicurare niente mi vada mi vada mi vada alla prossima con? con Swimbit Swimbit ciao ciao a tutti